E arrivare alle case dell'Ade, più dell'Inferi, a interrogare l'anima del Tebano Tiresi, il cieco di Dio, che ti dirà il cammino. Ingegnoso Odisseo, pazzo, che altra fatica maggiore mediterai nell'animo? Come osasti scendere nell'Ade? Perché, infelice, lasciando la luce del giorno, giungesti qui a vedere Marti in questo lugubre luogo? Ma remati dalla fossa! Ritira la spada affidata! Che beva il sangue! E poi, venite ogni piangioide vi troppi il mese qui, giungerà! Ogni piangioide vi troppi il mese qui, afferderà! Ogni piangioide vi troppi il mese qui, afferderà! Pensa bene in vita, tu perché morte è magica! In quel che morte sarà già in vita! E' in eccesso! Sei curioso di morte! Vai, 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 va, presto! Ti spremi bravo, troppo presto tu! Piungerà! Ti spremi bravo! Lo fa e bene pure per fino presto qui! Piungerà! O di gloria e d'ogni voglia! Vengo e qui! Piungerà! Pensa bene in vita, tu perché morte è! Molte, 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 molte. Troverai tre in casa, uomini raccontanti, che le ricchezze ti mangiano. Questo è il favore. C'è il ruo, 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 c'è il ritmo. E' un'escrittiamo, peggio, carol da barsi, no sare, ma che il visto, è di sloj, c'è il partire. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti